Ci fu una guerra nei cieli. In quella guerra, i vincitori si proclamarono dei. Mentre i vinti furono ribattezzati titani e imprigionati in eterno nelle viscere del monte Tartaro. E la grande guerra si cancellò dalla morte. Ma il male che un tempo fu è riemerso. Combattono con una ferocia mai vista prima. Sono abilissimi. Parli come se non fossero umani. Ascoltatevi! Non sanno loro più di noi! Non sono certo più forti o più coraggiosi di noi! In posizione! Loro sono umani. Esattamente come noi. Preparateli. Tenete muro e combattete! Combattete per l'onore! L'uomo a vostro fianco! Il vostro futuro! E se il vostro nome sopravviva! Combattete! Per l'inmortalità! Signora... Presto... Giungerà il tuo tempo. Per l'inmortalità?! Per l'inmuran... ... Lo rendezzi! Grazie.